Intro Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza Siamo ancora nella giungla ragazzi, siamo sotto la nostra nuova casa Che ho visto vi è piaciuta molto E quando dico molto dico tutti i commenti erano positivi Quindi sì in effetti è uscita molto bene Anch'io ero molto soddisfatto di questo risultato E sono contento che vi sia piaciuta Come potete vedere ho fatto delle leggere modifiche Anche seguendo i vostri commenti Ho allargato un po' la base dell'albero leggermente Perché comunque il materiale costa fatica per essere raccolto Dobbiamo abbattere altri alberi per fare tutta questa legna E niente in questo modo da un'idea di più solidità Perché in effetti l'albero era troppo sottile E ho leggermente allargato la chioma in cima Che adesso da qui non si vede La cosa che invece si vedrà tantissimo È che ho fatto crescere altri alberi qua attorno Così che in futuro quando vorremo potremo tornare Fare i ponteggi e fare magari altre stanze su altri alberi Il che non sarebbe male Ma ragazzi per adesso andremo avanti con le nostre cose E in particolar modo sono tornato qui Con del pesce questa volta Che metteremo qui E che servirà per conquistare un probabile ocelot Come vi ricorderete Come ricorderanno più che altro Gli scritti più datati diciamo così Di voi Avevo già provato a temare un ocelot Tanto tempo fa Ma essendo la giungla un bioma così lontano Quell'ocelot non arrivò mai a casa Per cui nel mentre attendiamo La giunta di barca a due posti Con le quali trasportare anche gli animali Che sarebbero la soluzione perfetta Cerchiamoci un ocelot E vediamo se dal nether Riusciamo a portarlo E magari questa volta La cosa potrà anche funzionare Ovviamente dobbiamo prima trovarci un ocelot Che sono scomparsi Gli ocelot sono tutti scappati Appena mi hanno sentito parlare No sul serio non ce n'è più mezzo È notte Ho girato a lungo Ocelot zero spaccato Nel frattempo vediamo uno scorcio Della nostra nuova casa Da sotto la collina Ed è una roba tipo epica Mi è sembrato di sentire un gatto No sul serio Mi è sembrato di Sentire miau Eccolo Fermo Vieni Non ricordo se mi devo avvicinare io Ti avvicini tu Ah no ok Tieni Sei già mio Vedo che mi fai già i cuori Sei già mio Oh Ma che bravo micio Subito Bravissimo micio Adesso Ti proteggerò da questo zombie malvagio Madonna santa Ecco qua E tu mi segui Per andare a casa Eh ma mi lasciate in pace A me il mio gatto Per piacere Grazie Micio Micio No Micio No Li fa male L'ha ferito Figlio di putt E per cui la base La base dovrebbe essere Eh sì Eccola là L'abbiamo fatta in alto Almeno svetta E si vede benissimo Dov'è Mannaggia a voi Mob DM Allora gatto Sì mi sta seguendo Ok Comunque nel caso Andassimo troppo lontano In teoria lui si dovrebbe Teletrasportare Per continuare a seguirmi Qua dovrà stare molto attento Però Allora noi passiamo da qui Così non rischia la vita Ok ragazzi ci siamo Siamo al portale del nether Io a questo punto Non lo so Allora dai vieni Vieni Micio Micio Mi segui Seguimi Seguimi Oh Non mi Ma sei rimbambito Cosa Dove andà Fermo Ecco stai fermo Perfetto Fermo Ok Ci siamo Tranquillo Tranquillo Zac È andato nel nether Adesso lo raggiungiamo Logicamente Vieni Micio Bello Vieni Vieni da me Vieni Stai attentissimo Perché Te lo dico È pieno di lava Quindi Allora innanzitutto Sei dalla parte sbagliata Del portale Per cui Come facciamo qua Aspetta Vieni da questa parte Va Così dovresti Spostarti Bravissimo E adesso Ti trollo E vieni di qui Così dovresti poter evitare il portale Vero Dai dammi soddisfazioni Però Bravo Bravo Vieni Bravo Dai però Bravissimo Ok dai ci siamo Adesso mi seguirai nel tunnel Spero E ragazzi Provo a portarlo a casa Finalmente Potremmo avere un gatto L'importante È che non faccia il cretino Tipo Ma guardate Ma quanto è bravo Ha passato tutto il ponte da solo Senza cadere Tieni ti regalo un altro pesce Sei stato proprio bravo Ecco L'importante Dicevo È che non cada Dali ponti E che non finisca nella lava Soprattutto Mi stai seguendo Sì bravissimo Bene Per ora ci siamo Siamo al portale di mezzo Il gatto è stato molto bravo Ora Se Hai già qua Si è tippato Ok perfetto Allora Adesso se riesci a seguirmi Noi Sì proprio tu Dovremmo salire qui Penso che ce la potresti fare Ha capito Tutto quanto Dai vieni Perfetto Daglie che ci siamo Dai è ultimo tratto in diagonale Fastidiosissimo Oltretutto Però Fotte sega Il gatto è ancora dietro di noi Adesso lo Lo porteremo Al portale E Come faccio però A farlo salire qui Devo fargli Tipo una Piattaformina Così Giusto Qua Spacchiamo Seguimi Sali lì sopra Fermo Fermo Non so come sia possibile Quale legge della fisica Tu stia Fanculizzando Con questo tuo gesto Ma è perfetto Dai Allora Qua spacchiamo Perché se no Non posso saltare Lo spingo Ed è fatta Ragazzi Vai così Torniamo nella base Speriamo che sia lì Nel posto giusto Portiamocelo in casa Ed è veramente fatta Eccolo qui Dai Micio Adesso Tocca a te Eccolo qua Micio Vieni a fare La conoscenza di Thor Vieni A Ok Facciamo così Dai Ti voglio bene lo stesso Anche se sei un po' tonto Thor Questo Guarda come lo guarda Dice Che è questo qui Un gatto No io li odio i gatti E invece no Sarà il tuo nuovo Best friend forever E lui si chiama Non lo so come si chiama Ragazzi Me lo direte voi Come si chiama questo gatto Scrivetemi nei commenti Come chiamare questo gatto Che si è già innamorato di Thor E il nome più votato Con più like Diventerà il suo nome ufficiale A patto che non sia tipo Non lo so Rotto in culo 78 O nomi tipo Offensivi O cose brutte Per il resto Si può fare Vero? Yes Ce l'abbiamo fatta Fatto ciò ragazzi Direi di ripulire L'inventario Quindi tipo il pesce Lo mettiamo qui Con la carne E mettiamo via anche La netherrack Ora quello che farò Sarà nuovamente Prendere Ossidiana E prendere L'acciarino Ovviamente L'acciarino Lo becchiamo Dove l'ho messo? Ah eccolo qui Ok No ce l'avevo già Nell'inventario Vabbè Perfetto Quello che andremo a fare Ragazzi sarà Continuare I nostri collegamenti Via nether Questa volta Andando alla mesa E in realtà Ragazzi Intanto vabbè Alla mesa Ci andremo Prendendo le rotaie Quindi questa cosa Già ci farà risparmiare Parecchio spazio E sarà molto comodo Ti dicevo In realtà Prima della mesa In linea d'aria Diciamo Tra la base E la mesa C'è già un altro portale Che è il portale Che io feci Per trovare La fortezza del nether Dato che questo portale Non mi permetteva Di avere una fortezza vicina Ed era quindi Qualcosa di molto Scomodo Dove minchia Sono i kart Per cui Avendo anche Abbandonato Completamente Sti cazzo di buchi Ma Perché è tutto così Fatto male Pensavo di avere Già corretto Tutto il terreno Vabbè Dicevo Avendo ormai Completamente abbandonato L'idea folle Di fare un bel Nether hub Ordinato Come si deve Perché Tanto abbiamo visto Che È un casino E che i portali vicini Non si possono fare Quindi un portale a Roma L'altro portale a Como E ragazzi Possiamo lasciare stare Questo ideale perfetto Di nether hub E possiamo Connetterci appunto A questo nuovo portale Quello che abbiamo utilizzato Per andare alla fortezza Connettere la mesa A quello In modo che La prima tratta La faremo nel mondo reale Con la rotaia Che è molto comodo E che abbiamo già fatto E poi per raggiungere la mesa Prenderemo la scorciatoia Nel nether E in questo modo Avremo un bel collegamento E qua Dobbiamo solamente andare Finché non arriviamo Alla fine Di questa tratta Di rotaie Che vi ricordo Ha tre fermate Vale a dire Portale dell'end E a tal proposito Adesso dovremmo anche Farci un bel discorsetto Portale dell'end Villaggio E come ultimo Come Ultima fermata Terminale Abbiamo il deserto Ci divertiamo A vendicarci Ma dai La pecora La guardia del corpo Ci ha pure Oh finalmente Ci siamo vendicati E dicevo Ci ha mostrato Il nuovo Aspetto Dell'end E il nuovo aspetto Dell'end È una cosa bellissima Ci sono delle Piante Tra virgolette Che assomigliano A coralli Ci sono dei nuovi blocchi C'è una sorta Di fortezza Dove presumo Sarà la nuova Boss fight Del drago Per cui Quando vi dicevo Che non avrei fatto La farm Di enderman Prima della 1.9 Intendevo questo Infatti ho fatto bene Ad aspettare Perché l'end Sarà totalmente Cambiato A quanto pare Quindi ragazzi Abbiamo fatto molto bene A non farci assolutamente Nulla Perché sarebbe Probabilmente Andato tutto A puttane Con l'aggiornamento Aggiorneremo il gioco E quando sarà aggiornato Con la 1.9 Rifaremo la boss fight Dell'ender dragon E poi Potremmo fare Anche la farm Di enderman Senza Temere Di Vederci la struttura Cancellata Intanto Vabbè Siamo già arrivati Al portale Che Tra le altre cose Si trova qui PS Sono 4 Le fermate C'è anche La fermata Della foresta oscura Dove abbiamo fatto Anche una casa E a tal proposito Guardatela lì La casa abbandonata Come è L'ozca Lì nella foresta Mi piace Mi piace tanto Eccoci qui ragazzi Siamo arrivati Alla fermata finale Poniamo Al suo posto Il kart Pronto per il ritorno Prima cosa Andiamo nel nether Perché Quello che voglio fare E prendere Le coordinate Nel nether Da questa parte Quindi Facciamo qui Stamp Coordinate Prese Torniamo Nel mondo reale E a questo punto Ci dirigiamo Più o meno Allora Inizierei a andare Da questa parte Anche se In realtà Bisogna andare Un po' Anche sulla destra Se non ricordo male Ci sono stato Un paio di volte Ma forse anche di più Alla mesa Comunque Dobbiamo andare Da questa parte Per raggiungerla E una volta arrivati In un bel punto Ci faremo Il solito portale È da tanto tempo Che non lo vediamo Quindi ragazzi Vi faccio vedere Un po' L'altro oceano Qua siamo Dall'altra parte Del nostro continente Del continente Dove abbiamo La base E questo è L'oceano Dall'altra parte È come se noi Fossimo in America Sulle sponde Dell'Atlantico E questo fosse L'oceano Pacifico Non ho mai Navigato Queste acque Devo essere sincero E non so Dove porterebbero Magari un giorno Sarebbe figo Provarci Perché sarebbe Proprio un viaggio Verso l'ignoto Non ho Idea Di dove portino E mi sono Tipo un po' Perso Perché non so Dove sono finito E perché Mi aspettavo Di arrivare Alla mesa Ma non è qui Quindi proviamo A seguire un po' La costa Un villaggio Un villaggio E della sebbia rossa Siamo arrivati Alla mesa Ragazzi Non penso Di aver fatto Questa strada La prima volta Né quella dopo O forse sì Sapete Non mi ricordo E là c'è una luce Per cui Sì L'accio Lavorato Significa Che il villaggio L'ho visto Fatto sta Che siamo arrivati Nella mesa Finalmente Guardate che bel bioma È uno dei biomi Più belli E questa desolazione Che vedete Ragazzi Dove Ah non era una torcia Tra l'altro Era il laghetto di lava Ora ricordo Questa desolazione È il punto Dove ho scavato Tutto il pezzo Di montagna O meglio Uno dei punti Per prendere l'argilla Per il pianeta E qua Ho proprio rovinato Il paesaggio Quindi noi ce ne andremo Da un'altra parte E faremo il portale In una zona migliore Che Che cos'è quella roba Oddio Quella è la È la variante rara Della mesa Abbiamo No Dai Ma Che figata No Questa cosa È fighissima Ragazzi Questa non è una semplice mesa Questa qui È la variante rara Della mesa Ora quando ci arriviamo Ve lo dico Perché Non ricordo bene il nome Si chiama Mesa tra parentesi Bryce Ecco si chiamava così Questa Parte È veramente Favolosa Il portale Lo faremo Ragazzi In questa porzione Della mesa Ma assolutamente E guardate lì C'è anche un plateau C'è della zona verde Sopra l'argilla Pertanto Prima che si riempie Di zombie Ci facciamo Tipo qui Il portale Ho deciso Proprio Questo punto Mi piace Ecco Stanno arrivando Le orde Che due coglioni Ecco Dicevamo Andiamo nel nether Prendiamo le coordinate Anche dalla parte Del nether E poi Io fuori Dalla puntata Farò Ovviamente Il passaggio Non vi voglio annoiare Come sapete Quindi lo farò Da me E sarà anche Il passaggio Più stretto Di tutti Perché ho guardato Le coordinate E c'è poco Lavoro da fare Sono contento Comunque ragazzi La puntata Finisce qui Nella prossima Potremo divertirci A costruire Nella mesa Se volete consigliarmi Qualcosa Fatelo Sarà una costruzione Comunque stile Farwest Nel mentre Lasciate un bel like Per questa Bella puntata Perché abbiamo trovato Una variante rara Della mesa Ragazzi È favolosa E abbiamo finalmente Un gatto con noi Quindi è stata Veramente Una puntatona Condividete Commentate Lasciate like Noi ci vediamo Nella prossima puntata E quindi un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti